Velocemente, Presidente, inseriamo nel deliberato della delibera dell'adozione di variante un punto alla fine di tutto il deliberato, che è quello di dare atto che saranno avviate procedure partecipative senza il vigente regolamento di Roma Capitale sulla trasformazione urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 57 del 2006, nelle successive fasi procedurali di adozione di piani e progetti relativi ai subambiti attuativi, raccogliendo specifici contributi e ricorrendo eventualmente anche a strumenti informatici e telematici. Questo ovviamente si tratta di un punto che era già inserito all'interno delle premesse, ma era giusto anche, viste le osservazioni che sono arrivate dai municipi e visto il dibattito che c'è stato dal municipio, era giusto poterlo precisare, poterlo garantire ed aprire quindi non alla possibilità ma di dare effettivamente atto che oggi il regolamento lo prevede e quindi tutte le fasi successive dovranno garantire questa attività. Grazie.